ciao a tutti i ragazzi oggi siamo in questo nuovissimo video su ipixel sulle belors per fare delle belors su ipixel e alla fine ho risolto anche il problema con il lunar cioè in verità l'ho risolto già da tempo ma non si sentiva più il suono ma manco dal lunar e appunto sono riuscito a fixare anche questa cosa ma gli fps appunto non è che la situazione è migliorata di così tanto se c'è una premia che grande no è migliorata di così tanto vabbè quindi andiamo subito in partita e quindi niente spero che non perderemo subito ma devo un po' sistemare il tutto quindi ti metto pausa ok raga ho sistemato un po' il tutto qua però questo lo vorrei mettere più non troppo ok ho sistemato un po' il tutto ehm già ho tantissimi materiali buono possiamo anche guardare abbiamo anche una spada ehm mi stavamo che detto è messo in questa posizione no non credo che ci possano per bardare sti blocchi non ci passerà non ne ora e ne mai un po' sì sì precisi precisi non è assolutamente vero ovviamente eh prendiamone altri grazie grazie ehm ok ora è veramente al completo diamanti vabbè questi ci sono i blocchi di diamanti o sono questi o sono questi dai un che c'è ma perchè non ok ma oh ma comunque c'è tutte queste cose a destra danno un po' fastidio però scusate ma mi si può allevarle poi potrebbero essere utili ancora non so di di preciso a cosa però già fa vedo i materiali non mi clicca ma che c'ha oggi ok no mi dovete insultare tutti mi dovete insultare tutti mi dovete tutti insultare grazie ok eh ok noi facciamo fin da che non è successo niente il punto è il completo mio io anche però incontenso il gioco di diamanti c'è 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 non si rifiuta mai bella capovente che ha fatto anche questo vedete che scatto la so chi fa cagare spero un po' di produzione ci vuole ah vero un po' qui e non vi ho detto che appunto ho cambiato pack e guardate un po' e tutti gli item le spade così e poi tools queste queste armature che per ora non si può vedere molto vabbè compriamo anche questo intanto vabbè qua gapple cose guardate così ok che dire che dire io direi di andare al centro no prima compriamo protection non cadere allora per sicurezza perché non sono molto pratico facciamo un po' di così anti caduta e anche questo blocco è un po' fastidioso ok perfetto non cadere grazie ok ora andiamo al centro no no voi sapete già che per il fail che ho fatto prima e devo per forza fare questa completare questo ponte lo spray perfetto nooo 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 ttp lato anche se sto per morire per un dettaglio a parte ehm non conviene che che andiamo a in base secondo me nooo 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 raga andiamo subito in base cioè vi giuro che non me ne ero accorto ma vi giuro che non me ne ero accorto vi giuro che non me ne ero accorto vi giuro che non me ne ero accorto ciò nooo se non me conviene che facciamo così allora primo questo ok secondo questo terzo ehm buttiamo quella vecchia questo ora si che siamo belli potenziati non si attivano si no non lo voglio non lo voglio vabbè comunque c'è un bubbo molto utile con questa cosa che figo figo non mi serviva però mi ha visto mi ha visto beh bella poco e poco e poco la protezione ei faceva prima a farle in l'arco dai sbrigati att 5 g ma dai raga si può vabbè il fatto è che non lo compito un fatto principale è questo non vorrei essere tutto tutto questo questo oh non ho l'imparcio questo ok spazio spazio è ovvio che ce la facevo come potevo non farcela che dire non posso ammazzarlo perchè un po' gravità per un uomo mi sa che conviene prova provarci e scappa scappa ma no si 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 sta venendo in base sclero sclero giuro ma lui non ha capito che chi sono dietro o no dai raga ma che ecco a che fare mi sa che non l'ha capito che sono dietro ecco ora si che l'ha capito l'ora ma anche attacca anche apparella cos'è raga un'idea non mi ha visto che sto andando qua ok bello strano vedendo vedendo io penso che sono ancora dietro e e e e e e troppo forte no non sono non mi sapere ma si sta venendo in base mi sta venendo in base mi sta venendo in base mi ho perso il letto perso il letto non ci vedo non ci credo 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 ok credo che gli obbligo buttare in teoria non ci credo non ci credo non ci credo facciamo un'altra partita vedo un secondino a che minuto e 8 che si possiamo fare un'altra partita e poi questo video finisce qui perchè non vorrei fare il minissimo video da da 30 minuti e quindi niente metterò pausa finchè non starterà questa fantastica partita e ok raga e e e ediziate la partita e un po' di materiale la guardiamo subito così molto figo qui e e c'è che figata che con sto aggiornamento del lunar ha anche con 1.8 i letti sono colorati molto interessanti come cosa interessante come cambiamento poi che non c'è anche il tibon in con lo ecco non questo da me che ti dico che si poteva capa cambiare il colore c'è l'anno visto ma non lo cambiato perchè però quello cambierò con un colore che ne so lui ci penso potrebbe potrebbe essere bello rosso dai in cui crediamo che un'altra parte del studio conviene aspettare con me e c'è aspettare per aspettare md di pubblica reti pittaccia non mi viene nessuno ma potremmo anche guardare però non ci bastano l'invito no ma per guardare un altro strato voi che sto succedendo devo prendere l'altro diamantino per comprare sciarpa c'è fatti messo però non credo che ormai sarebbe specificarlo ok puoi e c'è sicuramente già visto tutti i cittadini quindi diamanti ferro oro questo spazio si brilucida non vedete che cosa sto facendo ok 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 finiamo di guardare il letto non possiamo non possiamo non sto vedendo nessuno in base molto 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 interessante che possiamo anche comprare protection guapo anche questa partita non sta andando per niente male per ora ovviamente ehm ora andiamo anche al centro ok vabbè ehm come serve questo tipo? non si sa mai e andiamo su mi stavo per cadere vabbè andiamo subito al centro questa barra dovrebbe essere tipo qualcosa come pixel ecco ok ok vabbè non siamo qui per scoprire queste cose ehm vabbè ok a quel punto mi spaventa ecco 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 ora fai un po' il solido solido ponte da 20 metri ma lo farò anch'io con un po' di do si può fare tutto se va in base non c'è il motivo ok dai stipidastri stipidastri vediamo che partitura il legno no il lana il lana quella classica non ci potremmo riuscire ah mamma non c'è vero il letto comunque pozzo un po' di rich però va bene lasciamo stare non potete dire che chiede deracombo perchè ha iniziato a colpirmi da 20 blocchi però in dettaglio a parte ovviamente può essere che ho visto male però va bene o o il punto buon buon letto non me ne erano non me ne ero neanche accorto che è un secondo secondo minuto no 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 a rigenerazione no il presentimento che appunto mi sta vedendo qualcuno in base vabbè comunque continuiamo a guardare perchè si e e andare i ppi ad andare veramente al centro vabbè mi cerco ad aspettare il 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 punto il il quello per il questo bene ok ok ora lo testeremo se appunto funziona perché c'è 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 punto l'opo l'opo appena giornato per per fare il video quindi non so che cosa hanno aggiunto c'è punto che ho visto io c'è punto che ho visto io riusciamo a fare anche un altro strato poi vediamo proviamo a fare c'è il il gioco no no alberga alberga il mostrato ci vorrebbe un agente ok 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 io dove l'uomo si raga dai non cittano no 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 il legit no 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 si 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 il legit no no ci aveva scuso lo SPED vabbè vabbè comunque dopo aver perso con un hacker concludiamo questo video quindi ce la contiamo come vinta e quindi spero che questo video vi sia discretamente vi sia discretamente piaciuto E poi effettivamente potete fare Non solo Berlus ma anche Un po' di build button Anche se faccio davvero cagare In tutte le modalità però va bene Lasciamo stare questo fatto E quindi Ciao